ma da un maestro passiamo a un altro maestro sì allora è nel cinema già da qualche tempo un film che si intitola Berlinguer la grande ambizione dal 31 ottobre un film di Halloween per chi? per l'attuale cioè per l'attualità per noi è un film di Halloween in effetti un film diretto da Andrea Segre con protagonista Elio Germano che racconta la vita di Berlinguer tra il 73 e il 78 effettivamente degli anni diciamo abbastanza fondamentali del suo operato come politico ma non solo io direi allora questo è un film che io sono andata a vedere un po' per documentazione in più raccontiamo perché sì 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 perché il 22 cioè dopo domani in questo spazio tempo presenterò il libro di Luca Telese su Berlinguer uno dei libri in realtà ce n'era già stato un altro però insomma si intitola Opposizione l'ultima battaglia di Enrico Berlinguer libro pubblicato da Solferino che racconta attraverso non solo la voce di Telese ma anche la voce di alcune persone che tra l'altro ho ritrovato nel film che hanno fatto parte della vita di Berlinguer oppure dei figli di queste persone che raccontano il loro ricordo diciamo di Berlinguer l'assunto da cui parte Luca Telese è il fatto che la situazione in cui si è trovato a combattere alcune delle sue ultime battaglie come opposizione Enrico Berlinguer la situazione del mondo e dell'Italia è da un certo punto di vista molto simile allo scenario attuale con le dovute differenze ovviamente però insomma siamo in ci sono dei pattern che sono ritornati alcuni legati alla guerra alcuni legati all'inflazione alla situazione economica all'ascesa dei populismi quindi ci sono delle cose che tornano che sono tornate lo diciamo sempre i ricorsi storici e quindi questo film ed è il motivo per cui se voi vedete questo film di Berlinguer che racconta Berlinguer provate una sensazione acuta di dolore il motivo è questo non è tanto la stima che potete avere per Berlinguer o la conoscenza che avete di questo grande politico italiano quanto più proprio le somiglianze le differenze che ci sono con il mondo di oggi e questo è un film appunto che racconta un arco specifico di vita di Berlinguer che parte diciamo più o meno dall'attentato fallito di Sofia del 1973 un attentato dei servizi segreti bulgari e quindi diciamo parte dal rapporto stretto con l'Unione Sovietica e poi si sposta in Italia in particolare concentrandosi sul discorso del compromesso storico quindi sul rapporto tra il Partito Comunista e la democrazia cristiana e la figura di Aldo Moro ma anche l'ascesa del PC del Partito Comunista in quegli anni e soprattutto il grande movimento di massa che il Partito Comunista e in particolare una persona come Berlinguer hanno saputo attivare e creare attorno a sé ed è questa un po' la cosa che forse ci fa stridere di più rispetto al presente cioè una tale un tale coinvolgimento di persone nelle battaglie politiche che poi non erano ovviamente solo politiche ma battaglie sociali che coinvolgevano vari strati della popolazione ma li coinvolgevano veramente cioè oltre al sicuramente molto affatto la potenza di Berlinguer come persona come politico come comunicatore come persona con un'integrità talmente evidente e visibile da essere lui stesso simbolo di convincimento cioè era lui il suo stesso modo di fare politica era talmente credibile che le persone si sentivano piene di fiducia cioè io ho avuto questa sensazione un po' dal racconto non solo del film del libro delle varie testimonianze però quello che è sconvolgente è anche proprio il modo in cui queste persone partecipavano alla vita del paese e nel film ci sono sia scene girate che anche molte scene legate ai documentari quindi scene di archivio diciamo delle manifestazioni degli incontri di Berlinguer con il suo quello che veniva definito il suo popolo ma non era il suo popolo era il popolo diciamo del partito comunista e quello che sentite sotto che Giovanni si alza e si sposta è la è la colonna sonora non c'è niente che vibra è proprio così c'è questo che sembra quasi un cellulare che vibra no lo dico perché Giovanni si è messo a cercare in giro ma annaccia io sono un cane si vedrà anche nel video fa molto ridere comunque va bene dicevo che quello che tra l'altro piazza della loggia esatto quello che sconvolge è proprio questo grande amore del popolo lui per esempio si vede quando va a visitare le varie sezioni del partito in giro per l'Italia e anche tutte queste persone che fanno parte del partito e che sono attorno a lui e che lo lo amano e che partecipano a questo grande successo del partito comunista italiano cioè dopo le elezioni fanno vedere l'arrivo dei risultati a botteghe oscure e la gioia di ricevere singolarmente proprio i risultati città per città sezione per sezione e anche come dire la soddisfazione però affettuosa ecco c'è tutta una parte di emotività che è un'emotività è un attaccamento ecco un attaccamento all'ideale attaccamento anche al paese alle persone che non esiste più cioè questa parte qui oltre il discorso della credibilità che non manco ne voglio parlare perché diciamo che la come dire il livello del dibattito politico è rispetto a quello dei giorni nostri è una roba che proprio ti manda fuori di testa e anche da veramente qualsiasi tipo di strato di popolazione dall'operaio perché poi molti diciamo facente parte del partito comunista erano lavoratori cioè la base reale del partito comunista che comunque faceva aveva un modo di interagire di parlare di quelle questioni che era a un livello impensabile rispetto ad oggi e quindi è un film che da una parte è molto bello ed è molto coinvolgente dall'altra ti fa uscire con un'ulcera questa è un po' la sensazione al 351 5241101 scrivono ho pianto senza soste a varie riprese giustamente dice capire anche che c'è stata lì c'è stata la frattura tra politica parlamentare e cittadini ecco cioè è ben raccontata il prima e il dopo poi io non sono un'analista politica per cui alcune cose non ve le so spiegare del tutto però è abbastanza evidente la frattura che c'è nel modo in cui si faceva anche politica e nel modo in cui si fa adesso è chiaro che non si può generalizzare io non voglio assolutamente dire che non ci sia più nessuno che nessun politico o politica che abbia quel tipo di attaccamento ai propri valori ai valori dei propri partiti anche semplicemente agli obiettivi però sicuramente io non riscontro nessun tipo di credibilità al pari di quella lì ma non solo di Berlinguer anche di alcune altre persone che vengono raccontate di tutto l'emiciclo potremmo raccontare poi vabbè come dicono varie persone della mia famiglia il migliore c'ha la rogna nel senso che nessuno è esente nessuno è un santo anche perché sarebbe inutile però ecco c'è un livello di dibattito che noi non sappiamo più cosa sia da analista banalmente dei numeri del box office il film è stato visto da 7136 persone no di più 7000 mi sembra un po' poco e allora il dato è forse è solo recente ieri eh nel senso forse è solo di adesso sì 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 in totale è uno degli incassi più grandi della non dell'ultimo periodo no perché non è entrato nella nella stagionale però sicuramente come raccontavi l'anno settimana scorsa per Sorrentino il titolo che è molto spesso davanti agli occhi di molti di molte diciamo che io credo almeno dall'esperienza che ho avuto io in sala sono persone che sanno ovviamente già chi era il rego Berlinguerl che forse hanno vissuto quel periodo storico e mi piacerebbe che ci fosse una diffusione magari anche un po' più diciamo ampia rispetto invece a persone che quel periodo non l'hanno vissuto e che magari potrebbero essere non sapere proprio di cosa si sta parlando ma non perché devono sapere chi è Berlinguerl che voglio dire è relativamente importante ma perché possano vedere che cosa era questo paese cosa succedeva cosa poteva succedere no cioè come potevano esserci non so un milione di persone in piazza ecco questo forse andrebbe visto io quasi quasi mi vendicherei su Io sono un cane perché veramente ho perso bellissimo però ovviamente è una bella colonna sonora molto toccante allora arrivano tantissimi messaggi grazie grazie molte come io non ho visto il film però so che Elio Germano ha vinto il premio Vittorio Gasman al miglior attore Elio Germano è un attore nato a Roma nel 1980 mentre Enrico Berlinguer non mi risulta essere neanche nato nel Lazio anzi Berlinguer era sardo come tutti sappiamo e quello che fa Elio Germano è un ottimo lavoro secondo me un lavoro non macchiettistico tra l'altro ma di grande verosimiglianza nella parlata nell'atteggiamento nei modi l'unica cosa che ti fa un po' diciamo come dicono i giovani cringiuare è la make up un po' il capello così insomma che si vede che è un po' posticcio ma a parte questo per il resto devo dire è un'ottima interpretazione e si vede che è un'interpretazione probabilmente anche con tanto cuore con tanti peni ma non è l'unico ci sono tantissimi cioè è tutto un cast veramente di altissimo livello mi fermo a un certo punto ma Elio Germano Paolo Piero Bon Roberto Citran Elena Radonicic Fabrizia Sacchi c'è Andrea Pennacchi Paolo Calabresi Tirabassi insomma Tirabassi fa l'autista Alberto Menichelli cioè la persona che praticamente l'autista l'ascorta fondamentalmente che lo ha seguito come un'ombra per tanti anni che tra l'altro è anche citato e racconta la sua nel libro di Telese se volete saperne di più sappiate che appunto venerdì ci sarà questo incontro il libro non l'abbiamo detto la libreria scritti e manoscritti di Ladispoli se volete ci sono tutti i riferimenti sulle rispettive pagine Instagram e affini io voglio vendicarmi su Io sono un cane vai che tra l'altro che vendetta è vendetta vera questa è i funerali di Enrico Io sono un cane io sono un cane